Lo scorso ottobre si è concluso a Catanzaro il processo scaturito dall'inchiesta Ortrus contro la Cosca Chiefariozzo, composta da due nuclei familiari che lavoravano come un'unica entità di indrangheta nelle zone di Chiaravalle Centrale, Cardinale e Torre Ruggero, con quattro imputati condannati e due assolti. Ora i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e personale del Centro Operativo della DIA di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro di beni immobili e disponibilità finanziarie a carico di due persone indiziate di associazione di tipo mafioso, sottoposte nel 2019 a misure cautelari personali e successivamente assolti nel merito con sentenze non ancora irrevocabili. Il sequestro ha riguardato terreni, immobili e società per un valore compressivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro, nonché la disponibilità finanziaria è superiore a 3.000 euro. Il sequestro è di tipo cautelare volto a verificare l'effettiva disponibilità alla provenienza dei beni e la sproporzione del relativo valore rispetto ai redditi dichiarati e alla attività lavorativa dei due.